Il giorno dopo il duro sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che si è scagliato contro la politica a seguito dello striscione piattato su Ponte Vecchio, sono arrivate le prime reazioni. Il presidente del Consiglio Comunale, Luca Milani, dagli studi di Italia 7, ha fatto un mea culpa. Personalmente, ad esempio, non ho fatto nessun comunicato di solidarietà per quello striscione o per quell'immagine che è stata resa su Commisso. Perché? Non l'ha fatto? Se devo essere sincero, non ci ho neanche pensato, vi dico la verità, perché giudico che sia stato fatto anche, come spesso accade a Firenze, un grande polverone, una grande discussione che ci riporta a storie già vissute. Poi, ripensandoci oggi, anche alla luce dell'intervista che ha fatto, mi rendo conto invece di quanto poi siano importanti anche queste nostre attenzioni. Quindi, qui faccio forse un mea culpa personale, perché in quanto rappresentante di tutta l'Assemblea Consiliare, credo che fosse doveroso. Quindi, da questo punto di vista, sì, mi rendo conto, mi dispiace e mi scuso. Ha espresso la sua solidarietà anche la vice sindaca, Alessia Bettini, che ha invitato ad abbassare i toni sulla vicenda. Non entro nel merito, sicuramente, come dire, bisogna avere sempre rispetto delle persone, dei luoghi e soprattutto in un periodo così usare veramente un linguaggio, io lo dico, gentile. Ecco, si può manifestare il dissenso, ma facendolo sempre nel rispetto delle regole e nel rispetto delle persone e dei luoghi. Cosa potrebbe dire lei al Rocco Commissi? Solidarietà e vicinanza, ovviamente, quindi da tifosa anche della Fiorentina. Però, ecco, stigmatizziamo tutti quegli episodi che, come dire, trattano, non hanno rispetto né delle persone, appunto, dei luoghi. Ne abbiamo diversi di episodi in questo periodo, ma abbassiamo i toni e cerchiamo, appunto, di essere cooperanti e comprensivi insieme. La vice sindaca ha inoltre aggiunto che le indagini potrebbero presto portare a scoprire i responsabili. Su questo sicuramente indagheranno anche le forze dell'ordine e cercheremo poi anche di risalire, diciamo, agli autori. Però, insomma, ecco, rispetto di tutto e di tutti.